Presso la Palariciardi di Taranto è stato allestito questo hub vaccinale. Cosa state somministrando in questo periodo e come procede? La somministrazione procede purtroppo abbastanza a rilento perché la popolazione non risponde come ci si sarebbe atteso. Stiamo somministrando l'Op Pfizer, le fasce d'età vanno dai 5 anni fino agli ultraottantenni e si somministrano tutte le dosi, le dosi pediatriche, le prime dosi, le seconde, le terze, prevalentemente le quarte. Senza bisogno di prenotazione? Non abbiamo problemi di prenotazione, se vogliono accedere alla prenotazione ma anche senza prenotazione possono presentarsi durante gli orari di apertura, verranno serviti lo stesso. Le elevate temperature dei giorni scorsi, quelle ancora in corso, hanno influito e in che modo sulle vaccinazioni? Sulla vaccinazione di per sé in nessuna maniera, sull'afflusso della gente è tantissimo perché credo che con questo caldo nessuno abbia tanta voglia di spostarsi. Ma eseguire la vaccinazione in questi giorni con queste temperature elevate può comportare delle reazioni particolari? No, assolutamente no. Tutti noi stiamo completando il ciclo vaccinale. Io oggi per esempio farò la quarta dose.